E qui c'era la proposta pragmatica dell'assessore D'Amato che dice sono passati sei mesi, ti avverto, devi fare la terza dose. Per uno, due mesi, tre mesi si sta... Sono tollerante e dopo di che ti interdico la possibilità di... Esattamente, esattamente. E lei questa la sposa in pieno. Io questa la supporterei, perché mi sembra una proposta basata scientificamente, plausibile e pragmatica, nel senso che non lo togli ex abrutto, ma dai un avvertimento, un incoraggiamento, che, unito a quello che diceva lei, dicendo guarda che sei protetto, ma sei protetto sempre meno man mano che passa il tempo, dovrebbe convincere da una parte e in un certo punto obbligare, togliendo il Green Pass, dall'altra a fare la terza dose. Allora, ritorno...